Oggi siamo direttamente sul mio computer perché continua la serie su tutte le varie app che servono per gestire i nostri profili musicali. Abbiamo visto Spotify for Artist, abbiamo visto Bandcamp for Artist, abbiamo visto SoundCloud for Artist che si chiama Pulse, abbiamo visto anche YouTube for Artist in una puntata dell'Ask Mara. Trovate tutti questi video su YouTube e su Facebook, cercateli se avete perso le precedenti puntate e oggi vediamo Apple Music for Artist. Ci vuole un po' di tempo. Mi hanno anche detto che tanti hanno fatto la richiesta e ancora non hanno avuto risposta anche dopo tanto tempo. Quindi adesso vi faccio vedere come richiedere l'accesso a utilizzare il proprio profilo iTunes per vedere tutte le statistiche. Dopodiché, quindi divido il video in due video. In questo primo video, scusate il gioco di parole, vediamo come chiedere l'accesso. Proprio ve lo faccio vedere dal mio computer e poi se mi daranno mai l'accesso vi farò vedere appunto e anzi io guarderò come è fatto e tutto quello che si può fare. Magari farò un confronto tra Apple Music for Artist e Spotify for Artist. Ma per entrare dentro l'app di Apple Music for Artist, per avere l'accesso al nostro profilo sia iTunes immagino anche Apple Music, dobbiamo andare sul sito artist.apple.com e registrarci, se non siamo registrati, dopodiché fare accesso. Adesso, vedete, basta mettere i dati, no? La propria password, la propria mail e la password. Vediamo se mi ricordo la password. Ho fatto richiesta settimana scorsa, ma mi sono ricordato grande. E qui vedete la situazione. Io, Michele Maraglino, attenzione ragazzi, colpo di scena. In realtà sono dentro. Vedo con voi per la prima volta in diretta, mi hanno dato l'accesso a Apple Music for Artist. Quindi, vedete, ci sono qui, la vernice ha raggiunto un totale l'8 marzo, di 10 riproduzioni. Ti dice, 10 riproduzioni e l'8 marzo la canzone se non saremo forti abbastanza. Ti dice, dove è stata ascoltata, topo paese e regioni in Italia. Se clicco vedi tutti. Ah, vedete, ecco qua. Informazioni generali. Queste sono le informazioni generali. Brani più popolari. Fantastico. I trend, vediamo i trend. Wow. Interessante. Ti dà tutta una serie di statistiche. Lo sto vedendo per la prima volta con voi. la tua musica, le varie riproduzioni, ultimi 30 giorni. Qui possiamo scegliere dall'inizio dell'anno, ecco, non ci sono dall'inizio dell'anno segreti. Totale, da sempre, ti dice. Eh, vabbè, Apple Music è una roba abbastanza recente, quindi... Acquisti. Fantastico. Ci sono gli acquisti anche. Però non mi riporta neanche l'acquisto. Vabbè. È impossibile, ragazzi. Perché non mi... Vabbè. Settimane, mesi, anni. Ah, vedi, ti fa scegliere del 2015. Acquisti sempre tutto zero. Vediamo se clicco canzoni contro la comodità. Ah, nessun dato trovato. Ma secondo me non è proprio aggiornato. Gestisci. Che cosa posso fare? Caricare un'immagine? Ma dici sul serio? Ah, ve lo dico io perché dice acquisti zero, ragazzi. Perché questo non è iTunes. Questo è Apple Music for Artists. Non è iTunes for Artists. Quindi è Apple Music for Artists. Si tratta di... dello streaming. È come una specie di Spotify, però, della Apple. Vediamo che cosa possiamo fare. Possiamo disconnettere. Ci fa soltanto caricare un'immagine artista che mostra ai tuoi fan chi sei veramente. L'immagine deve avere una dimensione minima di 2000. Ok. Vabbè, io intanto lascio questa. Questa è l'unica cosa che mi fa fare. Intanto qua possiamo vedere che è una versione beta. Apple Music for Artists beta. È incredibile. 67 riproduzioni dal 2006. Se vi faccio sì. Dal 2015 9 riproduzioni. Ma comunque c'è qualcosa che non va. Nel 2019 18 riproduzioni. Gnale. Vedete? Ci sono gli approfondimenti che sono interessanti. Il 25 gennaio hai superato un totale di 10 riproduzioni negli Stati Uniti. Il 25 gennaio. Chissà chi mi ascoltava. Qui mi dice le regioni in cui vado forte. Ad Altamura mi ascoltano ragazzi. Mi ascoltano a Napoli. Mi ascoltano qui. Che cos'è? E mi dice Ah Padova. Quindi se clicchiamo sul luogo ti dice dove sei cioè quale canzone è stata ascoltata. Vediamo in Campania cosa hanno ascoltato. Però hanno detto che c'è un luogo sopra mentre in Puglia l'ultimo singolo tradire il fare. Va bene mi sto un attimo divertendo perché come avete visto io pensavo che non avrei avuto l'accesso ma colpo di scena mentre registravo il video. Quindi ecco quello che si può fare è gestire Apple Music vedere chi ci ha ascoltato dove ci ha ascoltato vedere gli approfondimenti e gestire praticamente si può praticamente gestire ben poco. Caricare un'immagine qui però c'è questo utenti ah vedete possiamo nominare se abbiamo dei manager o i manager che ci fanno questa cosa poi noi possiamo poi loro ci possono mandare l'invito e noi a gestire e viceversa. Quindi possiamo aggiungere persone che possono entrare oppure se siete una band di quattro persone e poi cambiare l'immagine. quindi ragazzi questo è Apple Music for Artists non è non è quindi potete vedere un po' chi vi ascolta dove vi ascolta allora come ho fatto a richiedere ora ve lo faccio vedere visto che il video era partito con questo intento doveva essere un video che faceva vedere appunto come fare richiesta allora se noi andiamo qui su Apple su Artist Apple Music noi dopo che abbiamo cioè dopo che ci siamo registrati e siamo entrati possiamo entrare nelle pagine ok in questo caso io ho già fatto richiesta e mi compare un profilo artista che posso gestire però la prima volta mi esce soltanto questo pulsante e questo che vuol dire che noi possiamo anche gestire più profili cliccando su richiedi accesso dell'artista che è la prima cosa che ci compare dobbiamo ricercare per esempio io ho il mio progetto parallelo love yourself voglio gestire anche questo non taggarmi nelle foto la mia vita non mi piace dobbiamo selezionare e vedete l'artista poi ci dice dobbiamo controllare che tu abbia selezionato l'artista corretto a verificare quindi ti fa selezionare l'album a questo punto vedete bisogna mettere un indirizzo mail un numero di telefono scegliere il ruolo mettete artista dovete aggiungere l'indirizzo Facebook Instagram Twitter compilare questi dati referente etichetta nome di contatto contatto del management note e fare invia io adesso non lo faccio perché non esiste più il Facebook di Love Yourself è un progetto vecchio qui se io qui ho lasciato vuoto perché non ho mai usato questi distributori però se avete caricato la vostra musica con uno di questi distributori cliccate su aggiungi e vediamo cosa succede forse vi fa loggare vi fa loggare sul vostro distributore così prende le informazioni questa cosa poi sicuramente vi fa accettare perché voi qui state chiedendo di gestire il profilo quindi dovete dimostrare di essere voi o di avere comunque le informazioni necessarie quindi aggiungete Facebook Instagram Twitter se avete il distributore tra questi quattro lo aggiungete loggandovi e poi compilate qui ho messo io referente etichetta ho messo Michele Maraglino anche management ho messo i miei dati se avete un etichetta avete un management mettete i dati che avete e poi cliccate in via dopo qualche giorno ora vi posso dire una settimana come è successo siete dentro siete dentro e di solito qui vi faccio vedere così veramente questo video è proprio completo qui prima c'era in sospeso e io pensavo di andare a fare il video e farvi vedere la scritta in sospeso ma ho scoperto forse dovevo controllare prima del video ma ho scoperto che mi avevano accettato quindi non vi arriva nessuna comunicazione nessuna mail andate a controllare dopo qualche giorno fate passare una settimana e avverete sicuramente poi l'accesso molto molto interessante se volete approfondire tutti gli altri andatevi a vedere gli altri video se volete approfondire Spotify for Artists tutto l'argomento che poi Spotify è il più importante e tutto e tutto il mondo appunto questo mondo del distributore di caricare la musica di depositarla soundrefs e AI di scegliere un editore non scegliere un editore di promuovere di gestire anche non solo il diritto d'autore ma anche diritti connessi copia privato tutto quello che c'è da sapere come sponsorizzare io vi invito come sempre al mio corso il musicista consapevole lo trovate su musicistaconsapevole punto michelemaralino punto com per entrare invece magari vi lascio il link in descrizione se volete scaricare la lezione gratuita su come trovare le date e avere più informazioni sul corso vi lascio questi due link in descrizione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti i nostri spettatori